Il materiale Bisogna capire che ci serve a fare questo materiale Io non le devo ancora rivedere, sono 170-130 cassette da uno per mezzo Però niente non si abbia per culo Correre, bisogna planare, bisogna prendere l'onda, bisogna entrare nell'onda, bisogna saltare l'onda, bisogna... Il dettaglio La notte di Capodanno ci stava volendo, no? Prima di salire sul palco stava una prova insieme a lui in un camerino, no? Che gli stava sbagliando addosso perchè Federico sbagliava tutto Ma perchè ti rompi i coglioni al lavoro? Sì E' porca puttana se stai 8 ore al giro non cambia lavoro Passa la cassa operaia Senti ma dai ragazzi, no, che è sto cosa? Ma che stai? Se sta la cifra bene il cassa operaia, ragazzi Non te che cassa nessuno Però... Fede E' una mamma Che bella questa casa Che bella questa casa Grazie a tutti